ciao traders siete su scarpe in the bull facciamo tutti i segnali del bull bot sigla all'orario giusto per vedere tutti i segnali del bull bot ore 20 sono riuscito a fare i dati sui tassi e guardate che candela candela del 5 per cento 5 5 50 questo è 5 50 per cento su bitcoin guardate che roba pazzesca va bene e niente sta crollando anche il nasdaq fantastico rim positivo fa meno uno comunque noi andiamo a vedere tutti i segnali quindi come facciamo andiamo qua su discord ovviamente se siete nuovi basta andare quando entrate ci sarà la stanza delle regole basta guardare il video mettere una foto profilo e cliccare mi raccomando cliccate qua sul toro hanno fatto altre 5 mila persone ok fatelo anche voi anche se in disco siamo abbiamo superato 10 mila cliccate e siete a posto poi dopo se avete il bull bot vedrete tutte le stanze altrimenti vedete solo come abbonarsi cliccate qua e vedete i video che vi spiegano come poter fare invece come uso io il bull bot quindi come uso il bull bot c'è già il video invece qua facciamo proprio tutti i segnali se clicchi nella prima stanza escono proprio tutti i segnali quindi basta stare qua e arrivano tutti quelli che ci sono e quindi tutti infatti c'è scritto qua in alto bull bot tutti i segnali ma noi andiamo stanza per stanza così vi spiego bene il colore i simboli e le strategie da utilizzare quindi bull favorites invece qua c'è tanta cosa quindi c'è il doppio tocco i massimi di ieri cavallino bomba all time eye bud insomma c'è un sacco di roba qua e lo vediamo dai colori vedete qua di fianco c'è un colore e poi c'è scritto che cos'è quindi ape per esempio è un cavallino top di gamma ovviamente tutti questi segnali fanno parte di una tecnica e trovate nel su youtube nella playlist con le tecniche di trading capite già lì quindi insomma lì potete avere una mano poi ogni stanza poi dopo avrà il video che spiega questo è una stanza la prima stanza la gruppa tutti quindi qua sopra non trovate il video questa è una stanza dove ha più strategie per esempio bad cliccate qua potete vedere la tecnica del bad ok poi bad è particolare perché ce ne sono ben tre video comunque partiamo da qua quindi cavallino andiamo a vedere cosa c'è e basta cliccare si apre cavallino quindi che cos'è adesso ovviamente tutto sballato mettiamo lista per percentuale cosa succede quando è che arriva arriva quando un titolo vedete ape arriva in classifica quindi prima che arrivasse il segnale bomba se sale piano piano senza fare una candela grande grande abbastanza poter entrare il segnale bomba ma arriva in classifica adesso fa schifo come classifica a parte bts gli altri fanno abbastanza schifo quindi è abbastanza facile arrivare in classifica ma normalmente ci sono delle percentuali sono più titoli con percentuali più grandi quindi noi vogliamo sapere i titoli caldi che stanno arrivando in silenzio verso la classifica del cambio candela quindi da mezza dalle ore 2 in poi ok dal cambio candela in poi questa non è la percentuale di questo ha fatto il 41 per cento dal cambio candela quindi dalle ore 2 fino ad adesso invece quello che trovate su binance è quello delle ultime 24 ore quindi avrà fatto il 42 per cento rispetto a 24 ore fa nel caso invece qua parte da zero quindi il cavallino è così cosa significa cosa dobbiamo fare semplicemente stessa strategia però come se fosse una bomba quindi quando arriva il segnale voi aprite e aspettate comunque una conformazione ok che può essere magari magari arrivato qua magari arrivato qua arrivato qua in classifica voi non entrata appena arriva il segnale dovete aspettare una conformazione che può essere questo quindi scende voi mettete magari un alert quando torno sui massimi se ci arriva con una conformazione e qua ci è arrivato perché qua abbiamo un qua abbiamo sempre allarghiamolo ecco vedi qua per esempio quindi qua mettiamo il caso fosse arrivato il segnale qua avremmo il massimo e abbiamo anche il bad che va sui massimi questo è il livello del bad due candele di riposo e abbiamo sui massimi ok quindi questo è come si usa è stessa cosa col bomba ok stessa medesima cosa vi arriva un segnale bomba questo è il doppio tocco ecco bomba 1935 qua quindi questa candela è una candela bomba ovviamente non si entra appena entra perché sennò prendete delle grandi schiaffi aspettate una conformazione cosa che non c'è stata quindi non si fa nulla ok noi però vogliamo sapere quando arriva qualcosa bomba arriva quando fanno anche i massimi quindi non arriva bomba se qua fa il 2% fa comunque una candela grande non arriverà il segnale bomba bomba arriva solo se il segnale è facendo nuovi massimi o vicino ai nuovi massimi se no non ci interessa ok per evitare di avere mille mille segnali quindi segnale bomba e cavalino lavorano insieme ma sono diversi quindi uno quando arrivi in classifica l'altro semplicemente se va sui massimi facendo una candela grande ok poi abbiamo visto qua c'è azzurro quindi marrone e cavallino questo viola è bomba poi abbiamo il doppio tocco fantastico questo questo è arrivato 1935 adesso ovviamente è tutto sballato 35 questo qua quindi se andiamo a mettere vedrete a time frame 30 minuti ecco abbiamo vedete si è avvicinato allora 1935 ah è qua si è avvicinato 35 al doppio tocco qua ok perché ci arriva il segnale doppio tocco perché appunto noi vogliamo fare o l'ingresso al terzo tocco quindi cosa succede noi ci arriva il segnale doppio tocco non va a rompere i massimi oppure se rompe i massimi fa solo lo sputino poi noi mettiamo un alert quando va a fare prima di andare a fare il terzo tocco noi abbiamo il nostro ingresso del terzo tocco quindi fantastico quindi deve aver fatto almeno due tocchi di un livello quando arriva quel segnale lì poi possiamo entrare anche al secondo tocco ma non dritto per dritto in questo caso sempre stato dritto per dritto ma nel caso in cui adesso questo è time frame 30 minuti ma noi ci spostiamo time frame a un minuto anche se va dritto per dritto al secondo tocco non lo facciamo ma magari fa anche solo un paio di candele di riposo poi dopo possiamo fare subito l'ingresso ok quindi mettiamo che questo sia arriva il segnale il doppio tocco questo sia a un minuto cosa sarebbe bastato fare che dopo la candela dopo arriva a toccare arriva a toccare fa due candele di riposo e poi se va di nuovo sui massimi possiamo farlo perché questo è come se fosse un terzo tocco ok quindi secondo dritto per dritto è quello che ci può dare delle fregature quindi non lo facciamo ma se fa il riposino possiamo farlo ok o meglio ancora scende e ci va a fare anche il manico per andare a fare il terzo tocco ok è fantastico questo segnale qua l'importante è saperlo interpretare ok quindi non si entra anche in questo caso non si entra appena arriva ma si aspetta la conformazione che avete studiato ok quindi il bullbot è fantastico anche se state studiando la tecnica poi dopo voi andate a vedere ok fatemi vedere quando arrivi il segnale così mi faccio uno storico io per capire un po' come funziona e basta fare così lo segui poi cosa abbiamo? guardiamo altri colori vediamo allora la mattina ci sono un sacco di quelli rosa aspetta che andiamo alla mattina ok sono spettacolari questo che ore sono 10 ecco andiamo a vedere la mattina e vedrete un segnale fantastico che mi piace un sacco eccolo qua il FOXIA diciamo allora dice un giorno di Firenze 3% sui massimi di ieri quindi XRP alle 2.53 andiamola a vedere XRP alle 2.53 allora allora 2 e 53 qua è arrivata questa candela qua che era si stava per allora andiamo a vedere guardiamo il daily quindi quindi praticamente quando si avvicina madonna erano andati dietro tantissimo quando si avvicina al massimo di ieri che sappiamo noi che è un momento trigger ovviamente poi dopo è crollato ma quando noi eravamo vicini ai massimi del giorno precedente ci arriva questo infatti ci dice 3% di differenza sui massimi di ieri ok? perché noi sappiamo che i massimi del giorno precedente i massimi del giorno precedente vedete che qua vedi? c'era meno del 3% quando si era avvicinato avete visto che quando è arrivato proprio era una candela verde verso il cambio colore ed era mancava il meno del 3% ai massimi di ieri che è un momento trigger che poi non ha fatto nessuna conformazione quindi non c'è andata però questo è quello che è e la mattina è fantastico che quando ci avviciniamo appunto ai massimi del giorno prima possiamo avere dei momenti trigger ok? quindi per esempio qua quando è sempre arrivato avrebbe detto guarda che si è avvicinato ai massimi del giorno precedente e qua è un livello molto trigger ok? studiatelo questo perché è un segnale fantastico soprattutto lo trovate la mattina vedete? qua l'ho detto ancora prima alle 2 ok? i massimi e i minimi del giorno precedente sono estremamente trigger i minimi per andare short i massimi per andare long ok? questo è fantastico e direi che qua poi dopo abbiamo gli alltime i500 andiamo a vedere dopo e direi che qua ci siamo in questa stanza qua poi andiamo a vedere i bad cliccate andate a vedere un video dei bad ma ci sono 3 ok? i bad è molto è piaciuto tantissimo quindi per capire e risolvere tutte le domande ce n'è 3 quindi basta scrivere sul mio canale bad e ne escono fuori 3 video ok? il bad classico il 50 sfumature e anche l'ultimo il 50 sfumatura ok? spettacolare mi rispondo tutte le domande quindi qua ci abbiamo il bad non a un minuto perché sennò il segnale sarebbe abbastanza inutile quando arriva ma a 5 minuti e a 30 minuti fantastici questi ok? quindi noi semplicemente vedete? ho uscito uno stamattina ovviamente è un segnale che ci sono dei giorni in cui arrivano un sacco di segnali dei giorni in cui arrivano molto pochi ok? però in generale quando riesci a entrare nei nostri standard ovviamente noi cerchiamo di selezionare il più possibile per far arrivare il meno possibile però ci sono dei giorni in cui arrivano tanti bad e i giorni in cui non arrivano e questo lo segnala sia a 5 minuti che a 30 minuti ovviamente andate a vedere il video quindi semplicemente il bad è una candela una candela sopra la 10 almeno 2 di riposo e poi dopo la rottura ok? andatelo a vedere andate a vedere il video qua c'è il link di uno dei tre video ok? andatelo a vedere e questa è la sua stanza poi ovviamente se voi siete al computer come faccio io quindi voglio i segnali di questa stanza qua vedete? basta cliccare qua e cliccate qua e vi arrivano tutte le notifiche ok? io della mia stanza mi arrivano tutte le notifiche delle altre stanze alcuni sì altre no vedete qua c'è la campanella che non mi arrivano notifiche ok? poi abbiamo lema 10 a time frame 30 minuti ok? anche questo è fantastico andiamo a vedere l'ultimo segnale ieri alle 22 quindi questa è praticamente è quando va a fare la finta su lema 10 a time frame 30 minuti ok? oggi è stata fatta una giornata schifosa però per esempio top in classifica io adesso vedo che c'è un BST ecco questo fra poco a 30 minuti arriverà lema 10 arriverà il segnale ok? c'è bisogno di una certa rialzo per questo che oggi non sono arrivati i segnali perché appunto abbiamo una classifica che fa schifo ma questo starà per arrivare ok? ci sta avvicinando lema 10 noi sappiamo che è un punto ottimo per andare a cercare un rimbalzo ovviamente dopo ci spostiamo a time frame 1 minuto andate a vedere comunque il video e questo è il segnale che arriva in questa stanza qua ok? andate a vedere qua e qua sopra trovate il video poi dopo time frame 30 minuti ecco questa è la stanza invece dove ci sono tutte le conformazioni a time frame 30 minuti quindi voi interessa operare solo con le conformazioni a time frame 30 minuti le trovate tutti qua quindi c'è il terzo tocco dellema 60 terzo tocco dellema 60 terzo tocco emersione 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 poi le vedete già dai grafici guardate che bello shimano abbiamo rifatto anche lo shimano guardate come arrivano belli adesso abbiamo allungato il numero di candele che deve stare dentro e l'abbiamo pulito quindi deve stare x candele dentro senza mai sporcare fantastico anche qua quindi lo shimano poi lo andiamo a vedere dopo quindi abbiamo tutti i segnali a time frame 30 minuti li trovate in questa stanza qua ok? quindi se vi interessa solo questo tipo di time frame 30 minuti trovate tutto in questa stanza qua shimano invece appunto proprio quello che stiamo parlando prima quindi è stato modificato noi modifichiamo in continuazione perché io voglio arrivare a avere meno segnali possibili ma più precisi ok? ovviamente abbiamo un filtro dove paga quindi deve esserci una candela di una certa percentuale nelle ultime candele altrimenti non arrivi il segnale per evitare che arrivano un segnale su un titolo che non paga non ha nessun senso non mi faccio perdere neanche il tempo di darlo a vedere e quindi siete a posto ok? per esempio shimano andiamo a vedere questo da qua non vedete la 223 per esempio in altri casi voi vedete anche l'altra vedete anche la 223 ecco con questo caso qua vedete sia sopra e sotto ma qua se non c'è non vuol dire che non c'è semplicemente più alto quindi non c'è nel disegno 19.50 phb andiamo a vedere phb qua ok apriamo phb poi ovviamente questo è time frame un minuto quando cliccate apre già in automatico su trading view al time frame che volete ovviamente trading view non importa che abbiate l'abbonamento trading view potete tranquillamente mettere il nostro indicatore e così potete usare la versione free ovviamente con la versione free però non avete solo una notifica una di queste alert e basta però insomma a chi se ne farei potete anche metterla a mano e quindi 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 chi ora è arrivato questo questo alle ah ah vediamo questo che è creato adesso 19 20 19 adesso proprio in questo momento qua perfetto mi piace ancora di più perfetto siamo dentro lo shimano preciso pulito non ha fatto non ha sporcato questo ultimo pezzo non ha sporcato bene cosa significa che time frame 30 minuti stiamo arrivati vicino ma nemmeno a 10 ok era quello che vi dicevo prima e innanzitutto c'è arrivato lo shimano quindi ottimo quando va a fare un'inversione di trend che faccia l'uscita dello shimano ok ovviamente come short è ottimo quando va a rompere la 223 in questo caso sta facendo una conformazione per poi l'uscita quindi quale può essere può essere un bad allungato all'interno un bad allungato all'interno un bad do the moon quindi all'interno dello shimano ci può convincere a fare un ingresso anticipato verso l'uscita ok quindi la rottura entriamo abbiamo come trigger anche la rottura della 60 e oppure andiamo a fare oppure può essere che va semplicemente a toccare la 60 ok la 60 lo sente quindi fa da resistenza fa qualche candela di riposo e poi dopo voi entrate con la rottura ok bellissimo questo e noi sappiamo che questo titolo paga quindi ogni volta che arriva un segnale sappiamo che paga questo paga tantissimo perché sta facendo una percentuale grande ma anche gli altri se arriva un segnale quindi oggi i titoli sono mossi poco sono andati pochi segnali i giorni in cui sono tanti titoli capita che si muovono tanto arrivano tanti segnali ok quindi Shimano andate a vedere il video così sapete come potervi gestire dovete sempre aspettare una conformazione per l'uscita ottima anche quando rompe la 223 soprattutto all'inizio quando arriva dritto per dritto rompe la 223 semplicemente quando torna dentro o quando rompe l'EMA10 all'interno voi fate il vostro ingresso e avete stop semplicemente si chiude la candela sotto ok il target è sempre la 60 all'inizio se fate un ingresso appunto che va giù dritto per dritto alla rottura dell'EMA10 e come target avrete l'EMA60 andiamo a vedere le altre stanze ecco massimi e minimi plus quindi qua praticamente segnala ogni volta che un titolo fa i massimi e i minimi ok quindi qua vedete avete un sacco di magenta bellissimi di magenta ecco avete anche questo che dice che è il 3% di differenza sui minimi quindi questo è un segnale short cioè sta dicendo che perché come è trigger quando tocca i massimi quando si avvicina ai massimi del giorno precedente è anche trigger al ribasso quando si sta avvicinando ai minimi del giorno precedente quindi quando è magenta quando è color sfucsia siamo vicini ai massimi del giorno precedente quando è arancione siamo vicini ai minimi quindi è un segnale short ok abbiamo anche segnali short ok bene poi andiamo a vedere Viagra eccolo il Viagra andate a vedere il video come al solito qua sopra trovate il link che vi spiega la tecnica poi facciamo un esempio PHBB alle 19 1859 andiamo a vedere ah bellissimo Viagra fantastico bello 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 anche l'uscita del Viagra ok questo è un bel esempio vedete il Viagra fantastico time frame 5 minuti questo guardate che roba ogni volta che si avvicina alla rottura ed è bello anche l'ingresso perché finalmente dopo tante finte fa la chiusura candela sopra fra l'altro con un bud con un livello bud ok quindi molto interessante interessante anche questo perché mal che vada se avete fatto questo ingresso qua e fa chiusura candela sotto qua comunque dovevate uscire e poi dopo semplicemente tenevate lo stesso livello per poi poter fare l'ingresso ok e poi dopo avevate questo candela di gain ok ovviamente il target il target massimo è l'EMA che trovate avanti quindi ovviamente l'EMA 60 e niente però questa è la logica quindi l'EMA 10 che comanda per tanto tempo è ottimo che vada a fare le candeline prima di fare la rottura questo è stato un po' questo è stato una candela che avrebbe potuto fregare perché è vero che non ha fatto la chiusura sopra però questo livello è un livello bad quindi avreste potuto fare subito un ingresso ma la chiusura sotto bisognava uscire e vabbè pazienza poi dopo due candele di riposo quindi già quando andava a superare quindi a questa candela qua vi faceva capire che eravamo chiusura sopra si poteva già fare un ingresso anticipato mal che vada si faceva con il livello bad e poi fate la vostra candela del gain ok di recupero però questo è il ragionamento del viagra fantastico io amo il viagra e questo è il colore del viagra ok poi andatevele vedere comunque sempre il video bomba abbiamo già visto quindi questa è la stanza solo bomba ma ovviamente c'è anche il video per imparare lo trovate anche nella stanza bull favorites che sono i miei preferiti saldi io amo i saldi che sono i titoli che sono scesi tantissimo 16 e 16 vib andiamolo a vedere il fantastico vib che ha fatto quando è uscito ha fatto una giornata galattica questa candela qua è stata spettacolare da lavorare adesso sta facendo un minimo dietro l'altro e quindi ci va nei saldi cosa ci dice anche i saldi che appunto sta continuando a fare sempre nuovi minimi ok quindi questo quando andrà a fare un rimbalzo ragazzi io fra l'altro questo rimbalzo mi sa che l'ho fatto e quindi adesso è pronto potrebbe essere pronto per fare un altro rimbalzo quando è che facciamo l'ingresso questo è un bellissimo esempio anche qua perché è già un terzo quindi qua abbiamo un livello qua abbiamo un livello che ha superato la rotola 60 qua è andato giù abbiamo già un livello che potrebbe andare a rompere questa cima quindi qua già ci indica con il pro scalping the bull ci indica già dove è il bad ci indica anche questa scala qua dopo di questo video qua nella parte finale ci sarà Andrea a spiegare anche il discorso del scalping the bull pro trading view quindi un ingresso potrebbe essere appunto o il terzo tocco della 60 quindi tre volte che si avvicina alla 60 1 2 e poi la terza volta aspettiamo poi dopo che magari vada a rompere facciamo l'ingresso il top e quando arriva la 60 lo testa fa una candela di riposo poi dopo voi fate già l'ingresso o se no anche in questo caso qua si è già avvicinato a questo livello qua l'87 l'ha già fatto una volta due volte questo con la finta la terza volta l'87 questo diventa molto trigger perché romperebbe anche la 60 in questo caso poi avremo anche un bad ok quindi aspettiamo sempre una conformazione per andare a fare la rottura ok e questo è saldi quindi troveremo sempre un titolo che è sceso tantissimo che ha bisogno di rimbalzare e appunto avendo bisogno e voglia di rimbalzare può fare delle candele enormi guardate questo anche qua avevamo un bellissimo tazza col manico è vero che qua è più alto però non è male tazza col manico la rottura guardate che accelerazione questa è una candela del 1% questa è una candela del 3 spettacolare esco i saldi sono 3 giorni che praticamente ci arriva come segnale saldi quindi questo è da tenere d'occhio ok saldi mi stra piace poi nuove monete questa è fantastico perché quando ci sono nuovi ICO se voi non lo sapete comunque vi arriva questo e la cosa bellissima è che vi arriva anche come bomba quindi io per esempio nell'ultimo quando è uscito adesso non mi ricordo nebbe forse vabbè io non avevo beccato la notizia però mi è arrivata subito bomba ovviamente la prima candela era una candela del tipo l'80% se non mi ricordo neanche mi è arrivata subito segnale bomba ho visto fantastico salto subito operare tanto primo minuto io non opero mai aspetto almeno i primi 5 candele e quindi ti arriva comunque e qua c'è la stanza vedete io qua non ce l'ho attivo perché tanto io aspetto il segnale bomba di solito lo so tramite le notizie ma nel caso ti arriva comunque il segnale bomba di tutte le nuove monete anche in boost vedete questo è in boost quindi arriva tutte le monete sia in USDT che in boost ovviamente per quanto riguarda i futures quindi i futures spot essendo più grande comprende anche quei pochi che sono nei futures ok quindi arrivano tutte le nuove monete poi terzo tocco EMA60 andate a vedere il video così vi spiega la tecnica andiamo a vedere ho 805 andiamola a vedere questo fra l'altro lo stiamo modificando come tutti fra l'altro allora che ora è arrivato il segnale ai 805 quindi adesso abbiamo tutto sballato perché c'è stato perché c'è stato il ah terzo tocco sì perché qua ha fatto diversi tocchi e qua stava andando verso la terza volta ovviamente qua l'ho veduto come tante volte ma lui lo conto come un livello e quindi uno lo conto come due livelli e poi dopo questo lo conto come terzo ok fantastico perché appunto l'aveva contato per tanto tempo questo è molto sporco ma comunque era già tanta volta infatti adesso poi è accelerato ok ovviamente fare attenzione perché e ti dici già time frame time frame 30 minuti ecco vediamo questo è 5 minuti 801 però è un orario in cui è stato tutto un po' sballato ok anche qua abbiamo il terzo tocco ok qua c'è andato una volta poi ha chiuso sotto quindi lo tiene come un tocco qua l'ha tenuto come secondo tocco e questo è il terzo tocco e poi dopo c'è stata l'accelerazione ok comunque andatevi a vedere il video fantastico anche questo e poi abbiamo emersione bellissima emersione perché adesso vi spiego abbiamo anche ci dice anche quando andare a target 28 28 che sono 28 28 adesso è arrivato a 30 minuti abbiamo un'emersione fantastico andiamolo a vedere come mai ho l'azionariato perché mi ha fatto vedere l'azionariato no good ok adesso ci siamo vedete ci sono anche l'indicatore daily spettacolare quindi qua già sappiamo che nel daily ha rotto l'EMA 5 andiamo a vedere vedete ha rotto l'EMA 5 quant'è bella questa cosa io amo aspetta il segnale arrivava con che time frame k ah 30 minuti ok perfetto quindi mettiamo 30 minuti per capire eccoci qua emersione vedete è comunque fuori dallo shimano ma l'emersione ci indica quando è crollato tanto infatti questo è crollato tanto un'emersione arriva solo se è crollato tanto e le eme finalmente si stanno avvicinando quindi potrebbe esserci un cambio di trend ok qua poi vediamo subito che abbiamo l'EMA 10 nel daily e l'EMA 5 nel daily quindi qua ha rotto l'EMA 5 nel daily il vero trigger e la rotura dell'EMA 10 nel daily però è ottimo perché poi dopo qua comunque nel caso in cui ci fosse stata una conformazione perché noi possiamo anche trovarlo che siamo ancora dentro lo shimano o addirittura ci può arrivare un'emersione anche se siamo sotto la 60 lui fa un calcolo strano comunque ci sta dicendo che l'EMA si stanno avvicinando cioè l'EMA 60 si sta avvicinando alla 223 essendo più veloce e quindi dopo un lungo crollo potrebbe essere il momento finalmente di fare l'emersione cioè l'incrocio 60 223 ok aspettiamo sempre una conformazione per poter fare l'ingresso e io uso sempre l'EMA 60 se riesco a fare un ingresso anticipato o la rotura 223 o comunque anticipato in qualche modo uso quando quando incrocia effettivamente l'EMA 60 come uscita target ok dunque andatevi a vedere il video anche qua dell'immersione è veramente spaziale anche questo martello questo spero di trovarne sempre tanti martelli perché praticamente è quando troviamo un pezzo molto grande nel book che fa sì che il prezzo possa battere lo stesso prezzo ok e fa un livello questo a che ora è arrivato marta 10 e 39 andiamo a vedere cos'è xrp 10 e 39 10 e 39 qua dentro allora guardate che roba 10 e 39 vedete ha battuto tante volte alla fine è venuto fuori una specie di bada allungato e la rottura ha fatto il suo movimento ok questo indica quindi indica un livello schiacciato il martello che batte sempre a uno stesso prezzo ok qua arriva già con una bella conformazione bella lunga se fa la rottura rialzo si va long se fa la rottura di basso si va short ok comunque andate a vedere il video sul martello e spesso ci sono degli ordini iceberg quindi non vedete un livello grande delle volte ci può essere un ordine grande visibile che fa il martello ok pesca anche qua ci sono due video di pesca ok guardateli tutte e due prima di utilizzare questo ok ieri le 11.47 pesca notturna andiamo a vedere e infatti guardate che rimbalzo che ha fatto pesca ha fatto una candela grande praticamente noi la pesca lui ci indica quando abbiamo una candela grande di un certo percentuale questa è una candela del 15% deve poter scaricare tanto e avvicinarsi all'EMA in quel caso ti arriva appunto per la pesca e di fatti qua era andare a pescare sull'EMA 10 forse non saresti state fillati perché poi alla fine ha funzionato l'EMA 60 ma comunque poi il rimbalzo l'ha fatto ok questa è l'idea della pesca quindi una grande candela almeno una grande candela anche questo è uguale una bella grande candela lunga questa è il 20% una candela che va a testare l'EMA di riferimento e il giorno dopo rialzo ok questa è la logica ma andate a vedere anche qua il video 1 e 1 2 ah sono tutte e due qua grande ah ci sono tutte e due guardatele tutte e due non abbiate fretta studiate ragazzi mi raccomando qua il muro quindi qua indica semplicemente quando nel book troviamo un pezzo molto grande in vendita vi renderete conto quindi vi dice che nel book c'è un pezzo molto grande in vendita cosa comporta questo significa che quel muro lì può fare da resistenza quindi grazie a quel muro lì il prezzo non lo supera e magari ci fa un bado allungato ci fa un terzo tocco ci permette di fare una conformazione rotto quel pezzo grande fa da tappo e dopo possiamo aspettarci un'accelerazione ok questo è il muro andatelo a vedere il video cavallino sappiamo già quindi se volete solo il segnale cavallino c'è la sua stanza beta channel sono quelli che stiamo testando nuovi stiamo già testando ovviamente noi testiamo sempre cose nuove poi abbiamo quelli daily bellissimo anche questo è importantissimo andarlo a vedere anche subito la mattina perché daily 10 cosa significa daily 10 significa che è il massimo degli ultimi 10 giorni e vedete che appunto è andato a fare il massimo degli ultimi 10 giorni quindi contate 10 candele quindi attenzione perché sappiamo che se poi abbiamo anche altri segnali questo è molto potente perché sappiamo che abbiamo anche un daily potente ok questi sono bellissimi cioè 10 daily cioè 100 daily CHZ significa che si è avvicinato ai massimi degli ultimi 100 giorni ok e difatti questo è un massimo molto importante e si sta avvicinando quindi lui ci dice attenzione stiamo avvicinando ai massimi di 100 giorni cosa significa che diventa un livello molto trigger fra l'altro questo è molto bello perché non è andato a rompere il secondo tocco adesso è sceso arrivando qua arriviamo al 26 molto trigger per il terzo tocco nel daily ragazzi questa è una bomba teniamolo d'occhio fra l'altro con immersione ok questa è l'immersione di prima ok vedete non ha fatto nessuna resistenza al 263 andato su ma poi dopo ha fatto la finta sulla base e qua era ottimo comunque da comprare una volta che dimostra che questo è sul supporto guardate che rialzo che ha fatto ok quindi questa è l'immersione di prima e qua ce lo dice nel daily quindi il daily è importantissimo guardatelo sempre la mattina prima di operare guardate se ci sono dei daily importanti perché qua poi quando arrivano le conformazioni noi sappiamo che abbiamo un daily favorevole ok quindi il numero indica quanti giorni ci sono ok daily 10 daily 100 ci sono tanti altri daily 25 ok comunque andate a vedere il video poi all time i 500 questo invece ci dice quando o è un all time i o comunque sono i massimi degli ultimi 500 giorni ok ovviamente qua ci ha segnato ultimamente visto che il mercato fa schifo sono titoli nuovi ok non c'è altrimenti è difficile trovar qualcosa vicino agli all time i titoli nuovi invece più facili perché sono i primi giorni ok e quindi qua trovate comunque in un periodo di bull market questo è fantastico perché ci dice che appunto ci sta avvicinando a degli all time i che sono il momento trigger per eccellenza ok ragazzi gli all time i quando un titolo si avvicina gli all time i c'è il rischio di fare un botto in quel periodo lì ok quindi attenzione sempre a quello poi c'è rottura ema 10 daily questo è fantastico perché avvenendo il periodo di crollo vedevamo che l'ema 10 la rottura poteva essere molto trigger qua ce l'abbiamo è arrivato adesso 2035 andiamo a vedere rottura ema 10 nel daily vedete ci stiamo avvicinando all'ema 10 tutti i segnali arrivano prima del momento trigger ok poi delle volte arrivi che nel tempo tu magari l'hai visto tardi ed è già salito però comunque ci sta dicendo che siamo vicini al momento trigger ok l'ema 10 deve aver comandato per x giorni minimo senza chiudere la candela sopra allora lì ci può dire che ci stiamo avvicinando al momento trigger ok molto importante andiamo a vedere se c'è un altro mana ecco questo già dal grafico vediamo che è molto interessante guardate è bellissimo tra l'altro veniva già da un viagra diciamo l'ema 10 che comandava ha fatto la sua finta è tornato giù ha fatto la sua rottura per due candele adesso avrebbe bisogno ok mana tenetelo d'occhio bellissimo questo bellissimo perché sta facendo le candelline ogni volta che trovate candelline prima di rompere un'ema questo è molto potente ok dovete sempre cercare una situazione del genere candelline prima di rompere anche qua era bellissimo avesse rotto candelline prima di rompere becchiamo l'accelerazione fantastico candelline sono spettacolari poi abbiamo cambio colore daily questo è l'ultimo arrivato non abbiamo ancora il video ma basta andare a vedere il video del cambio colore quelli che fanno candle friday candle night insomma il cambio cambio colore c'è la puntata il venerdì sera live su discord e niente qua ci dice che sta per fare il cambio colore daily cosa significa andiamolo a vedere quindi questo è l'unice alle 5 e un quarto andiamo a vedere cambio colore daily si sta avvicinato ma non l'ha fatto però praticamente cosa ci dice quando fa il cambio candela adesso vi faccio vedere c'è l'indicatore di sessione io l'ho staccato il colore o c'è 12 4 si l'ho staccato ok se no lo indica quando fa il il 2 ok si ah no l'ha fatta l'ha fatta quello è un altro giorno no 9 6 si si l'ha fatta l'ha fatta allora cosa succede qua sono le 2 quindi c'è il cambio colore c'è il massimo di giornata il cambio colore l'ha fatto qua linea verde ok questo vuol dire che è lo 0 ok quando ha fatto il cambio colore vedete alle ore 2 imprecise vedete là sotto erano le 2 è sceso e basta ok se scende e arriva una certa percentuale di discesa quando arriva una certa percentuale di discesa se poi dopo si riavvicina quindi quando ha fatto il cambio candela non ha fatto non è salito e poi dopo è sceso ma è sceso e basta o che ha fatto solo un mezzo sputo oppure è sceso e basta quando arriva una certa percentuale quindi ha scaricato gli scettici se poi torna su si avvicina arriva il segnale ok arriva il segnale per dire attenzione perché qua può essere qualcosa di molto trigger poi qua avevamo un ema nel daily a dirci attenzione all'ema daily guardate che bello ha fatto proprio da tappo però se noi non abbiamo ema sopra e poi ci fa una conformazione di rottura del verde quindi del cambio colore è molto trigger perché poi dopo abbiamo tanto spazio ok in questo caso abbiamo avuto l'ema 5 nel daily che ci ha fatto da supporto e da resistenza rotto quello comunque poi dopo è andato a fare un bel massimo ok questo è l'idea del cambio colore che cambio colore quindi deve comunque per forza fare un cambio colore fare al massimo uno spunto positivo poi crollare deve crollare di una certa percentuale e poi dopo si si avvicina voglio essere segnalato qua vedete che c'è anche piazza affari e ovviamente sta arrivando anche quello è quasi pronto anche quello per mercato azionale poi arriverà il video anche su quello quindi questo è tutte le stanze io ovviamente come lo utilizzo io prima cosa vado a vedere i daily il cambio colore perché quando mi sveglio la mattina e poi dopo mi sposto in bull favorites ok vado a vedere quelli rosa vado a vedere le mie stanze poi dopo in base a quello vado a vedere un attimino com'è la situazione ok però la mattina bull favorites sono già i miei preferiti e guardando anche quelle con i daily ok e poi l'altra cosa quindi studiatevi i video che trovate nelle stanze ok e poi dopo come potete vedere io ho anche il scalping the bull pro su trading view e questa è la versione pro quindi la versione dell'abbonamento vedete ha tutte le indicazioni e adesso vi metto il video che abbiamo già realizzato con Andrea che vi spiega le novità di questo indicatore ok che lo puoi avere in aggiunta al bellissimo questo che è l'unico e vedete bellissimo anche già con la scala e tutto in aggiunta rispetto a bull bot ok si può prendere in aggiunta se ce l'hai già puoi pagare solo la parte in più quindi il bull bot è solo 50 ogni 6 mesi senza rinnovo e quello di trading view è 25 ogni 6 mesi senza rinnovo quindi o pagate se non avete nessuno dei due 75 è tutto dei due se avete già il bull bot quindi avete già pagato i 50 magari sta per scadere o ce l'avete già da 3 mesi avete ancora altri 3 mesi pagate solo la parte del trading view ok in più e basta e poi non si rinnova niente perché a me fa schifo quella roba lì se vi piace vi interessa lo rinnovate quindi costa 50 euro per 6 mesi non per un mese non per una settimana per 6 mesi e 25 la versione con trading view per 6 mesi ok ciao ragazzi quindi andiamo a sentire Andrea che ci va a spiegare le novità dell'indicatore su trading view allora buonasera eccoci come diceva Bull che ieri chi era presente al webinar ha già visto le prime novità diciamo quelle più evidenti partiamo proprio da quelle la prima cosa che notiamo su questo grafico è diverso rispetto all'indicatore precedente alla versione precedente sono queste linee percentuali che appaiono di default qui sul grafico ah hai messo anche meno uno grandissimo cioè ragazzi per chi ha seguito il webinar c'è bastato dire mettiamo anche un meno uno detto fatto grandissimo così ecco spieghiamo cosa indicano quindi abbiamo lo zero che è l'ultima close e quindi serve per darci un po' di riferimento a colpo d'occhio di quanto paga ecco spesso si parla di quanto paga paga non paga entrate solo se paga ecco questo è un po' colpo d'occhio cioè se te vai un attimo su bitcoin ti vedi la differenza di quant'è l'1% quindi questo è un titolo che paga andate a vedere adesso guardate la differenza con bitcoin guardate dove è lo zero dove è l'uno guardate dove è l'uno avete capito se un titolo paga o non paga ragazzi capito la differenza quindi così a colpo d'occhio capite subito io l'ho trovato veramente utile questo subito mi sono innamorato subito ma anche solo per capire appunto il movimento che sta facendo lo spike che sta facendo quando entri effettivamente capisci subito se sei a target a 2% all'1% al 3 insomma ti fa capire ti si aggancia praticamente alla chiusura della candela precedente e poi ti calcola il movimento della candela che sta facendo adesso quindi è fantastico ok quindi questa è la prima novità ovviamente facciamo un attimo un recap all'interno del pannello delle impostazioni quindi trovate sempre impostazioni grafiche dove trovate abbiamo aggiunto anche un discorso mostra emma un flag per il mostra emma poi vediamo tutto ok ci sono tutti punti trigger altre cose che abbiamo aggiunto diciamo che ricordiamo che quando quando aggiorno quando arrivano attivare questo questo indicatore quindi praticamente dopo gli fai vedere che praticamente lo togli l'altro togli la stellina e lo rimetti poi dopo andate nelle funzioni adesso ti fa vedere dove e trovate questa quindi sulla rotellina trovate questa pagina e dopo cliccate cosa volete se volete i minimi massimi di ieri cambio colore max quickly cioè decidete voi tutto quello che volete manualmente potete fare tutto come dicevo Bull è tutto selezionabile dalle caselle vicino al nome quindi la prima sulla destra servono per attivare effettivamente gli alert quindi prima di attivare l'alert selezionate l'alert che vuoi che desiderate volendo potete anche selezionarli tutti con un unico clic e invece per visualizzare il grafico le conformazioni le etichette bisogna selezionarle da questo pagina e per quanto riguarda la parte del delle percentuali della griglia percentuale è qui mostra take profit percentuale e qui il colore colore bianco se magari avete lo sfondo bianco volete cambiarlo nero ah puoi anche cambiare il colore fantastica sì ok ok quindi questa è la prima novità poi andiamo in ordine andiamo a vedere la seconda novità anche lì al webinar l'avevamo già visto qualcosina che sono le ema daily fantastico quindi la proiezione delle ema daily su qualsiasi time frame qui ci troviamo come vediamo sono già quindi noi qua siamo time frame 5 minuti ma vediamo già dove sono i daily ok che hanno lo stesso colore quindi quello giallo sapete che è l'ema 10 daily ok e come dicevamo prima per pulire ancora se qualcuno vuole fare un tipo di analisi veloce basata solamente sulle medie daily può rimuovere le medie queste qui del time frame diciamo e quindi avere un grafico più pulito per studiare il comportamento proprio sull'ema diciamo ecco un dettaglio per avere il grafico ancora un po' più pulito diciamo sì quindi l'ema daily valida su tutti i time frame c'è l'alert che vi indica la prima volta al giorno che viene toccata toccata dall'alto dal basso da qualsiasi punto e lui una media un alert al giorno quindi quel giorno vi avvisa che si sta avvicinando a quella poi se si avvicina alla 60 vi avviserà quando si avvicina alla 60 però una volta al giorno perfetto quindi ecco se qualcuno non dovesse notare questa cosa che non suona sempre per questo motivo sì ok poi andiamo in ordine e vediamo che qui in basso abbiamo aggiunto al posto di finta sulla 10 è diventato un finta sull'ema ottimo perché abbiamo aggiunto anche la finta sull'ema 60 e la finta sulla ema 2.23 quindi sempre con la stessa io adesso ho un po' troppa roba bellissimo perché possono essere candele di inversione trend quindi è fantastico esatto qui abbiamo usato lo spike a bucarellato poi è tornato su qui anche qui è finta sulla 2.23 e le varie finte sulla 10 classiche che c'erano anche prima poi altra novità quindi togliamo la finta sull'ema ulteriore novità abbiamo qui i max weekly quindi max weekly impostato con un alert di default al 3% che sempre si seleziona qui dalla spunta e max weekly disegna sul grafico come i massimi del giorno prima questo disegno i massimi della settimana precedente si della candela precedente praticamente si andiamo sull'un sull'uncì che qui c'è un bellissimo esempio ecco proprio oggi l'ha fatto quindi lui ci avrebbe avvisato con questa candela qui che siamo ci stiamo avvicinando del 3% ai massimi weekly aspettacolo fai vedere fai vedere il grafico settimanale così capiamo così vedi la candela nella settimanale allora si andiamo a vedere wiki ah scusami si ovviamente è il massimo della settimana precedente si si quindi ha superato quello lì fantastico bellissimo massimo della settimana precedente eh si ma poi sull'uncì è veramente bello perché guarda se lo metto a 30 minuti gli ultimi giorni gli ultimi settimane cosa ha fatto vabbè si si rottura esplosione c'è questo livello è stato bello importante diciamo e anche oggi ecco proprio appunto stiamo vedendo ok quindi dopo questo anche questo come potete notare dave qui no ma ok in precedenza diciamo che lo segnala una sola volta al giorno quindi se si verifica diversi tocchi nella stessa giornata lui segnala solo il primo si poi un'ulteriore novità abbiamo aggiunto a livello sempre di calcolo la possibilità di selezionare la soglia per il terzo tocco quindi abbiamo come prima avevamo solamente terzo tocco EMA con la possibilità di selezionare tutti e ci segnala per entrambi oppure una media in particolare adesso abbiamo aggiunto la possibilità di selezionare anche la soglia entro entro cui devono verificarsi tutti e tre i tocchi diciamo quindi dal primo al terzo tocco poi un'ultima cosa abbiamo un'ultima cosa che però molto importante molto bella ed è facciamo un esempio di un qualcosa di brutto che non si fa un esempio di un qualcosa che non si fa il bad non mettiamo che tanto no ok quindi qua è un casino e dice mamma mia ma è inusabile questa cosa come si fa dopo zoom un po' zoom un po' e migliora però comunque queste etichette rimangono e disturbano sul consiglio di una certa persona bionda che conduceva il dramma l'altro giorno non facciamo novi mi raccomando non facciamo novi abbiamo aggiunto questa casella con visualizzazione pro che praticamente ci toglie tutte le etichette ingombranti con la descrizione e diventa una cosa anche se zoomiamo vediamo come il segnale si limita ad essere solo quanto la candela e quindi prende la proporzione del grafico che abbiamo diciamo così ottimo e poi fra l'altro sempre dove eri prima sopra potevi rimpicciolire la grandezza delle scritte quello c'era già esatto sì anche qui sì esatto un'altra cosa che dimensione etichetta è stata chiesta esatto qui su dimensione etichetta da normal aspetta però dobbiamo tornare togliere la visualizzazione pro quindi da tutte le etichette che abbiamo abbiamo la possibilità di selezionare comunque tini ad esempio che sarebbe la misura più piccola e ci riduce le etichette al minimo anche qui rimangono sempre abbastanza proporzionate alla candela se zoomiamo tanto diventano piccolissime piccolo dettaglio abbiamo modificato anche alcune un po' la visualizzazione grafica del BAD quindi il livello non parte più dalla seconda candela di riposo diciamo così ma parte dall'aig effettivamente di riferimento bellissimo questo quindi viene indicato direttamente il punto più alto e la scritta è direttamente sulla punta più alta così capite che non vi confondete esatto poi adesso gli abbiamo dato una lunghezza standard in modo che anche quelle situazioni in cui il BAD è troppo stretto e magari disegnava una sola ad esempio ecco qui come era prima avrebbe disegnato solamente una lineettina minuscola allora in questo modo abbiamo cercato di dargli una misura standard che anche colpo d'occhio che qui può essere si vede rotto però poi dopo si ripetono questi punti perché è importante vederli e niente perfetto è una cosa facciamo vedere adesso che voi adesso che voi rilascerete a tutti questo nuovo aggiornamento spiega cosa devono fare per poterlo attivare cioè fai vedere tecnicamente ok allora però quando arriverà bisognerà riaggiungerlo al grafico quindi arriverà la notifica intanto troverete la notifica qui in questa parte del trading view c'è la sezione notifiche ok cliccandoci sopra vi apre poi le varie notifiche e vi arriverà l'avviso che è stato aggiornato potete rimuoverlo cancellate quindi quello che avete ecco e poi lo cercate qua scrivere scalping the bull lo troverete scalping the bull pro indicator o anche su script su invito lo trovate sempre caricate mi raccomando like è sempre cosa ben accetta e niente ci siamo letti tutti tranne l'ultima cosa che non sai neanche tu adesso vediamo ah no ok giustamente però spesso quando viene aggiornato poi bisogna mettere bisogna bisogna poi mettere spuntare le cose che si vogliono quindi le 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 conformazioni che vuoi che si vedano eccetera ah un'altra cosa che è stata chiesta tante volte approfitto per dire questo trick che esiste che quando alcuni vedono magari la scala il prezzo che si schiaccia troppo basta andare su cliccare tasto destro sulla scala e selezionare utilizza solo scala prezzo in questo modo lui quando andiamo anche se abbiamo delle linee sono al di fuori quindi ci schiaccierebbe il grafico utilizzo solamente la scala del prezzo ok perfetto e un'altra cosa sempre molto importante per eliminare tutti questi numeri che sono alla fine i valori di riferimento delle varie ema delle varie impostazioni basta andare su stile e in fondo trovate valori in leggenda togliere valori in leggenda perfetto e quindi a volte quando lo togliete bisogna rifarlo però è così semplice si toglie dalle impostazioni diciamo e poi c'è un'ultima cosa che neanche tu conosci adesso vediamo come ci rimani cosa vedi qui attiva sveglia ah grande fantastico prima di aver chiuso la candela ok 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 il meeting qua grazie si attiva sveglia ok poi non so vedremo se aggiungere anche l'alert ah quindi ogni 28 ogni 58 può suonare in automatico si e se non la vuoi far suonare noi l'abbiamo messo di base che potrebbe essere un etichetto cioè una tabella proprio pensavamo un qualcosa qui che compare in quel minuto si perfetto magari si magari tutti e due o tre minuti che mancano mi dà 23 qui è selezionabile in base a ognuno al minuto che seleziona da quel minuto fino alla mezz'ora o da quel minuto fino alla fine dell'ora rimane la tabella qui in alto fantastico fantastico giustamente dico l'ok google può andare in pensione adesso perfetto basta mandiamo a casa google la sveglia serviva per ricordarci quando cambiavano le candele io volevo essere avvisato quando cambiava prima che cambiasse la candela da 30 minuti e a un'ora quindi ogni ogni ventottesimo minuto e ogni cinquantottesimo minuto impostavo la sveglia per essere per ricordarmi che sta per chiudere la candela perché capirete che quando chiudono quelle candele lì ci sono dei movimenti particolari ok sia che siete dentro o no è importante capire se siete vicini o meno hanno chiuso la candela da 30 minuti o un'ora anche se lavorate a un minuto è molto importante questo poi lo capirete ok direi che questo direi che sì ci siamo detti tutto perfetto alla termine